Marcella Chiesi, bentrovata, ci eravamo già conosciute e a lei il compito di illustrare il secondo strumento che è stato elaborato nell'ambito dei vostri gruppi di lavoro che è quello dedicato proprio alle piccole e medie imprese, che hanno una bussola a disposizione. Ecco, grazie, anche da parte mia un'espressione di felicità per essere qui con voi e presentare il risultato di questo lavoro complesso, di tutto il gruppo e che magari facciamo vedere la foto di questo gruppo che ha lavorato per... Ci sei Giulia? Ecco, siamo sei donne che hanno lavorato e che cosa ci ha guidato? Possiamo, vai tu con le slide Giulia, non ho capito che devo fare io per il pulsante. Ecco qui, grazie. Che cosa ci ha guidato nel fare, metti la presentazione? Che cosa ci ha guidato? Un'idea fondamentale che in questa fase per fare change management, per fare effettivamente inclusione attraverso la valorizzazione delle differenze, ci fosse necessità di avere strumenti che dessero maggiore sapere e competenza. Sapevamo di andare contro tendenza, è vero, ma siamo convintissime che si può uscire da questa situazione di decrescita economica del Paese se si sanno affrontare le sfide che ci troviamo a dover confrontarci, se abbiamo maggiore sapere, maggiore competenza, maggiore capacità. Per questo abbiamo creato questa bussola che vuole dare maggiore conoscenza, maggiore strumenti e fare in modo che nelle piccole e medie imprese nasca anche una competenza per saper gestire le differenze valorizzandole. E dunque ci ha guidato questa triplice ragione. La prima è quella relativa al fatto che oggi scambia profondamente il patto di fiducia tra aziende e dipendenti. Come cambia questo patto di fiducia? Cambia perché possiamo andare... Sicuro che funziona? Sì? Non funziona niente. Vai andare tu per favore, te lo dico io a quale? Cambia perché a differenza del passato se lo scambio era lavoro salario o soddisfazione, riconoscimento salariale, oggi le nuove generazioni, ma i millennial, dai millennial in poi, chiedono invece una partnership, vogliono essere coinvolti molto di più ma al tempo stesso hanno bisogno di soluzioni personalizzate nella condizione lavoro e condizione di vita. Quindi per poter arrivare a forme di personalizzazione della giustione delle persone, che sia dentro un quadro di certezza, perché non possiamo fare diseguaglianza e dunque di equità, io ho necessità di darmi degli strumenti completamente diversi. Primo perché così ottengo il meglio dalle persone, secondo perché così riesco effettivamente a mettere in moto un processo che mi produce dei risultati maggiori. Avere la partnership con le proprie persone all'interno dell'azienda vuol dire creare un processo di imprenditività delle persone, le persone che aiutano l'azienda ad affrontare la sfida, ad affrontare le sfide, perché le sfide sono tante, i macro trend dal 2030 ci dicono che noi siamo dentro un passaggio epocale dove in alcuni casi indicano come il passaggio dall'agricoltura all'industria. Se in questo passaggio epocale è vero, anche le piccole e medie imprese, oltre che le grandi, hanno necessità di rivitalizzarsi completamente, hanno necessità di competenze assolutamente diverse e nuove tra la forza al lavoro. E non possono sempre cambiare tutte le forze al lavoro, quindi non è solo con le nuove, devo saper cambiare anche quelle che già ho all'interno. Quindi capite che siamo dentro una sfida enorme dove si vince se si hanno le persone con sé. Allora, se si hanno, puoi andare a quella, la precedente a questa, ecco l'ipotesi che abbiamo fatto è lavorare quindi fondamentalmente per avere questa consapevolezza, avere una nuova vision e soprattutto cogliere il movimento che si genera nelle nuove generazioni. Veniamo dopo il giorno 15, le grandi manifestazioni degli adolescenti. Questo deve dirci delle cose fondamentali. Cioè questa generazione Z, quelli nati dopo il 2000, ci portano degli stili completamente diversi e ci portano un tipo di azione che poi la richiederanno nelle aziende. Già i millennial si lamentano moltissimo perché sono schillatissimi e le organizzazioni vecchio tipo non le riescono a saper valorizzare. Figuratevi questi sveglissimi che già hanno cominciato ad essere leader mondiali a 16 anni. Noi dobbiamo capire che si sta modificando fortemente il mercato del lavoro e le imprese che non lo capiscono faranno fatica ad affrontare le sfide. E quindi vedete che noi ci inseriamo dentro questo meraviglioso momento. È un momento difficilissimo ma è meraviglioso perché chiede di modificarsi a tutti. E allora ecco che andiamo nella slide dove noi creiamo la bussola e con quale criteri. Questo. Riconoscere, includere, ma per includere veramente, per non prenderci in giro. Noi veniamo da 20 anni di inclusione che fallisce, abbiamo visto alcuni dati, alcune cose sono andate bene, altre non ancora bene. Tu devi arrivare alla valorizzazione delle differenze, qualsiasi differenza essa sia. E naturalmente con Anna Loretoni su questo siamo apripista, la differenza di genere fa scuola. Quindi la differenza di genere come modello di inclusione attraverso la valorizzazione delle diversity. Per fare questo voi capite che è un percorso mica facile portare delle imprese, meglio piccole, ma anche le grandi. Perché? Perché non è detto che le grandi siano arrivate all'inclusione con la valorizzazione. Alcune cose che diceva la Nicoletta ce lo dicono, no? Le grandi imprese, le imprese della finanza, delle banche, le imprese dell'industria storiche, non hanno ancora colto bene quale è il motore che devono andare a accendere, perché non l'hanno ancora acceso. Se di questo tema se ne occupano solo le fondazioni, perché allora è sensibilità e non è business. Noi dobbiamo entrare nel business, dobbiamo fare questo passaggio, ma non per essere business women, ma per avere la vision di come possiamo entrare dentro un valore con una modalità diversa. E dunque conoscere, riconoscere le differenze che l'impresa ha all'interno. Quindi la bussola aiuta le imprese a saper fare questi passaggi. Come faccio a conoscere le differenze e a riconoscerle? Come faccio a includerle perché la diversità è nella realtà quotidiana? La diversità è nella... Qui abbiamo parlato che tra le donne ci sono tante differenze. Figuratevi tra gli uomini. Quindi noi ci consumiamo nelle differenze. Allora come faccio ad includere queste differenze? E quindi ecco che io devo mettere in discussione questo modello idealtipico fondato sul neutro, perché non rappresenta più neanche gli uomini. Le nuove generazioni degli uomini fanno fatica a trovarsi là dentro. E noi su questo, che già lo soffriamo da tantissimo, sappiamo bene qual è questa fatica. Quindi sappiamo anche come si può fare perché questa non-inclusione si elimini totalmente e si arrivi a un'effettiva inclusione attraverso la valorizzazione perché si ottengono maggiori risultati per tutti. Per le persone, perché le persone sono al centro, per il business, per il business. E andiamo a vederlo. E quindi la nostra bussola si orienta in questo modo. Andiamo alla successiva che sono questi famosi KPI evoluti. Giulia ci sei? Perdonami. Ecco. Che cosa abbiamo voluto mettere al centro di questa guida che diamo alle piccole e medie imprese, ma per i KPI evoluti forse anche per le grandi imprese. Abbiamo voluto dimostrare attraverso tre esemplificazioni e dando degli strumenti e delle metodologie come fosse possibile arrivare a monitorare l'effettiva valorizzazione della differenza attraverso anche l'incremento che questo poteva produrre all'innovazione aziendale, all'innovazione nel suo insieme. E quindi abbiamo creato per ognuno di questi tre casi che adesso io vi presenterò gli indici di monitoraggio, non soltanto dei KPI, KPI sono Key Performance Indicator e sono quelli tradizionali, mentre noi qui abbiamo creato quelli evoluti, quelli che permettono effettivamente di mettere in atto nella quotidianità l'innovazione. Perché questo è il salto che bisogna fare, non soltanto nelle parole, nella quotidianità, nei gesti, nelle competenze, nella professionalità che ciascuna persona agisce quotidianamente nel suo lavoro. Ecco anche l'imprenditività, perché è lì che io scatto, che sono in grado di portare il mio contributo, metterci anche qualcosa di mio. E questi KPI si possono ottenere, azienda per azienda non possono essere generalizzati, e si possono ottenere solo se l'impresa si sperimenta su quelle forme di innovazione. Altrimenti sono teoria e aiutano relativamente. Allora, possiamo andare avanti, la bussola ha questi diversi step. Cosa devi fare, tua azienda medio-piccola, anche grande, ma presupponiamo che le grandi, alcune cose le abbiano già fatte. Cosa puoi fare, tua azienda? Devi fare un'analisi di contesto e devi analizzare quali sono i trattamenti che dai alle diverse categorie di diversity che hai all'interno della tua azienda. Benissimo, e questa è un'analisi tradizionale per certi versi, ma con alcune attenzioni su quali incroci tu devi mettere sotto osservazione per verificare effettivamente se non si mettono in atto dei gender gap o di generation gap o di altre tipologie di differenza gap. E quindi da questo punto di vista abbiamo dato alle imprese questo primo strumento, se possiamo andare avanti e dire fai la mappa delle tue differenze. Tua azienda, piccola, media, grande, devi costruire, metterti sotto osservazione quali sono le differenze, le devi riconoscere e poi le definisci che agiscono il tuo contesto lavorativo. Vedete la mappa delle differenze è enorme e questa non è che è nata oggi, c'è sempre stata, solo che finora è stata gestita in maniera uniformante. Quindi a tutte queste differenze veniva chiesto di essere uguali a un ideal tipico, maschile, adulto, sposato, con la macchina, diceva la Fiat. Bianco, ovviamente. È bianco. Allora, capite che intanto cominciamo a fare proprio una cultura della diversity, mettiti a confronto con le tue diversity. Dopodiché chiediamo con la successiva, ti diamo questi tre strumenti, sappi che per poterlo analizzare, grazie, devi mettere sotto osservazione la struttura organizzativa, i metodi di gestione delle persone, dal reclutamento alle carriere, alla fase di gestione del pensionamento e via di via, e quella cultura aziendale. E successivamente abbiamo detto ma non basta conoscere, per poter includere hai necessità di dare un valore alle differenze. Dunque, quali contributi qualitativi ti portano nel business, nell'organizzazione, nel funzionamento, diciamo, dell'attività, le diverse differenze. Possiamo andare e quindi qui mettiamo sotto osservazione quali sono le motivazioni, le competenze, i modelli di pensiero che definiscono le donne, gli uomini, i giovani dagli anziani, quelli delle professionalità tecniche, da quelle umanistiche, quelli che possono essere dentro l'azienda. e attraverso questo, quali sono le performance, quali gli stili di leadership. Perché se tu non sai riconoscere che quella diversity ti porta a uno stile di leadership, non lo riesci sicuramente a valorizzare, se neanche lo conosci. Quindi ho la necessità di mettere sotto osservazione aspetti altamente qualitativi, del modo di dire fare essere delle soggettività che agiscono. Quindi non aver paura della soggettività se sono io che la governo con una vision. La soggettività è sempre stato un mostro per le organizzazioni, perché le organizzazioni nascono per standardizzare e la soggettività l'hanno sempre dovuta in qualche modo tenere fuori dalla porta. Oggi con gli strumenti che abbiamo e solo e soprattutto con le competenze che abbiamo, la soggettività invece è una risorsa fondamentale, intanto perché il mercato ce lo chiede. Se tu vuoi dare un servizio personalizzato devi riuscire a personalizzare la gestione delle risorse umane, se no sei un pirla. Non è vero che lo sai fare, no? E non è facile. Non è facile perché arrivare a creare delle forme di personalizzazione, di governo delle risorse umane presuppone un pensiero strategico. E questo pensiero strategico lo devo fare strutturandomi con una, diciamo, dimensione aziendale. Quindi mi devo dare non soltanto degli obiettivi, delle azioni, quali insegnamenti voglio trarre dalle differenze. Se lo devo dichiarare che voglio trarre insegnamenti dalle differenze, anche dalle differenze di genere. Quali sistemi di gestione, sviluppo e char ho intenzione di mettere in campo perché questo sia possibile e quali funzioni chiamo ad essere i partner di questo cambiamento. Che ruolo chiedo che svolgano i capi? Attenzione, molte volte tutte le iniziative che si fanno a favore della diversity, fanno azioni culturali e non intervengono sul management intermedio, cioè su quei capi e le capi che gestiscono quotidianamente le persone. E quindi nasce un divario fortissimo tra il dichiarato e l'operato, mentre è nel quotidiano. Quindi sono i capi intermedi, l'asse portante della vera inclusione con la valorizzazione. e allora ecco che io devo creare delle competenze a tutti i livelli. Ecco perché occorre più sapere, non meno sapere, quando si ha a che fare con le diversity. E quindi ecco che io entro, se vado avanti per favore, vi porto le dimensioni delle tre tipologie, i tre esempi, che sono poiché spiegare i KPI teoricamente è molto complicato, perché sapete che bisogna costruirli caso per caso. Quindi come fai a spiegare una cosa, ma quello va bene per quello, non va bene per me, quell'azienda non sono io, è facilissimo innalzare una barriera di ostilità. Allora abbiamo detto no, facciamo una cosa concreta, la bussola vuole essere un percorso non teorico, ma concreto per le aziende. Una volta che tu hai individuato quali sono le tue differenze, quali sono i problemi che hai per garantire effettiva pari opportunità, quali sono gli aspetti che ti impediscono di includere e di non valorizzare, ecco che allora io comincio a costruire dei percorsi e i tre esempi che abbiamo portato sono tre esempi che stamattina sono stati richiamati, io ho detto ma qui mi danno un asset stupendo, mi devo pagare il caffè a tutti quanti, genitorialità, generazioni e smart working, tre esempi di innovazione dentro il quale c'è possibilità di fare valorizzazione delle differenze, di genere generazionali ma anche di qualche altra cosa, adesso lo vediamo. Allora, perché questi tre ambiti? Primo perché la genitorialità e non mi soffermo, stamattina è stato detto, è ancora un ostacolo gigantesco, attenzione, non maternità, genitorialità, perché dobbiamo essere attenti a non essere retrogati noi stessi, le nuove generazioni dei maschi vogliono vivere la paternità affettiva e noi questo lo dobbiamo far diventare un elemento cardine e quindi non parliamo più di maternità ma parliamo di genitorialità. Certo che la gestazione e il parto ce l'hanno le donne ed è certo che c'è un percorso che riguarda solo le donne ma una volta che il figlio o la figlia sono nati si parla di genitorialità e si parla di genitorialità anche prima, no? Perché si attende in due e non si attende solo in uno. Generazioni. Ho detto quanto è difficile inserire diverse generazioni dentro l'azienda i nativi digitali i migranti digitali è la più banale però saperlo fare ecco che è la valorizzazione delle differenze generazioni è difficilissimo è difficilissimo perché i patriarchi ci sono molto ancora dentro le organizzazioni e qui si è sempre fatto così è una cosa che ancora oggi rieca nelle orecchie dei giovani che entrano nelle aziende smart working perché nel 2030 il 50% dell'occupazione sarà in smart working che stiamo aspettando? E come deve essere fatto per evitare che discrimini? Come deve essere fatto perché valorizzi e non tolga potere professionale competenza chi lo fa? Ecco allora noi abbiamo fatto questi tre esempi adesso vi presento quello della genitorialità Sì 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 Tanto ne parla anche la vera perché lo dira lei Allora siamo partiti da questo fatto la genitorialità blocca le carriere anche gli uomini che hanno provato a gestire la genitorialità si sono trovati ad essere richiamati perché non era nello standard del loro profilo soprattutto chi aveva ruoli di responsabilità Dunque abbiamo offerto alle imprese questo strumento è uno strumento che abbiamo testato e poi la Valeria Giovannini lo presenterà per la sua azienda che è quello del vai avanti ecco del Duo 5C che abbiamo testato in moltissime aziende sono più di 15 anni che lo realizziamo dentro le piccole medie e grandi imprese dove diamo degli strumenti all'azienda per saper gestire il prima dell'assenza obbligatoria è fondamentale il prima ma tra chi altra questione fondante che ci distingue da altri modelli che lasciano il tempo che trova noi proponiamo dall'inizio della gestazione dal terzo mese da quando lo si dichiara di essere incinta fino al settimo mese o all'ottavo a seconda di quando si vuole andare in maternità obbligatoria di costruire un percorso tra capodiretto e risorsa perché continui l'investimento su quella risorsa e che la maternità non blocchi l'investimento dell'azienda su quella risorsa un investimento professionale naturalmente che non vuol dire che quella risorsa non si può fare il suo anno o i due anni di assenza facoltativa per carità ma con un progetto da costruire e magari mantenere un filo rosso quindi il durante l'assenza e noi abbiamo fatto sperimentazioni fantastiche di gente ultra specializzata che ci ha ringraziato perché ha detto io morivo da alcune medico ce lo parlerà Valeria morivo all'idea di lasciare questo mio secondo amore che è la professione adesso mi è nato questo primo amore del figlio ma io devo riuscire a conciliare questa cosa allora è il durante tenere un filo rosso e qui attenzione multilevel abbiamo utilizzato lo smart working perché molte cose si possono fare con il lavoro da remoto non in tutte le professioni non in tutte le attività non in tutti i periodi però questo ha eliminato molto part time questo va detto perché poi il part time è l'altro elemento che blocca e quindi abbiamo dato degli strumenti alle aziende che sono dei percorsi delle guide per i capi e per le donne che vanno in maternità il secondo strumento sempre dentro la maternità il valore della genitorialità abbiamo messo in campo circa 23 skill che ci si allena durante la genitorialità sia che si sia uomini che si sia donne non è solo importante che io ne abbia consapevolezza anche se è il primo step ma è importante che l'azienda ne abbia consapevolezza di come quelle skill possono una volta riorientate nella dimensione professionale dare maggiore valore aggiunto alla mia performance al lavoro e come l'azienda me le può riconoscere quindi non mi riconosce qualche cosa quando sto fuori dal lavoro per assistenza al bimbo appena nato ma quando rientro come agiscono quelle competenze dentro di me rispetto alla mia capacità professionale ecco la valorizzazione e allora ecco i KPI evoluti cioè io metto sotto osservazione se effettivamente con queste azioni io sto portando innovazione in primis se creo forme di organizzazione del lavoro più efficaci anche se vanno incontro alla conciliazione secondo se creo nuove modalità di fare percorsi di carriera e via di seguito non so se capite quindi come faccio a declinarlo in teoria io lo devo declinare in ogni realtà lavorativa perché magari lì è il focus che devo mettere sotto osservazione e poi entro velocemente no non posso entrare nelle generazioni nello smartwatch mi spiace grazie grazie grazie